Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te Questa è Arte per te Arte per te Vedi Tito, devi fare prima così E poi così, e poi fai un grande cerchio così Ci sono i bambini, ciao bambini Come state? Benvenuti di nuovo qui insieme a Tito Stavo insegnando a Tito a fare il cerchio Ma beh, noi di questo ne parleremo in un altro momento Perché noi non possiamo fare quello che ci piace e piace Dobbiamo aspettare la missione da Colorium con la carta meteora Che secondo me è lì lì pronta per arrivare Eccola, eccola Vediamo chi ci scrive oggi Forse una bolletta No Speriamo di no, chissà quanto costa il telefono da qui a Colorium Allora No, è Tito, è la mamma Allora Vediamo un po' cosa dice la regina Matidina Carissima ombretta E dolcissimo figlietto mio Tito Come state? Bene regina, grazie Grazie, grazie mamma Allora Sono tanto contento di vedere Tito che sta tanto bene Lo trovo un po' dimagrito Sei dimagrito Tito? Sì Allora ti devo dare ancora un po' di più roba da mangiare? Sì Un po' di insolata di grafite Va bene Tito Ci penserò La missione di oggi è una missione molto profumata Una missione profumata Che voglio dire? Infatti l'Armata e Gommate Stanno cercando di cancellare tutti i fiori di Colorium Gli alberi Ma guarda la mia cosa Non è possibile Tutto quello che di bello e di naturale c'è Anche le nuvole stanno cancellando Quei monellacci Ma tu intendi cosa? Sì Fiori, nuvole e alberi Tutto cancellato Uffa, non è che ci siamo tanto battuti per ricostruire i prati Quindi i prati però li stanno lasciando Vuol dire che i bambini ne hanno disegnati tantissimi I prati sono forti perché sono disegnati per i bambini È vero Siccome sono tantissimi Non ce la fanno a cancellarli tutti Però cancellano i fiori Perché i bambini ancora non li sanno disegnare Ma noi oggi impareremo a disegnare tanti fiori E poi agli alberi e alle nuvole ci pensiamo la prossima volta Oggi è una missione tutta profumata Andiamo subito a disegnare i fiori Vai Allora Tito, temperiamo la nostra matita E buttiamo il trucciolo all'interno dello segno maggio Sì, dai In modo da riempirlo Ancora è tanto vuoto Tito Ancora sì Guardate bambini, ce ne sono solamente due Ma ce la faremo, vero? Ce la faremo insieme E alla fine quando lo scrigno sarà pieno Non solo avranno salvato colori un caro Tito Ma avranno imparato anche a disegnare benissimo questi bimbi Benissimo Allora Tito con la margherita Wow Facciamo la versione per i piccoli piccoli E la versione per i bimbi un po' più grandi Ok Pronto? La margherita la faremo con 5 petali Va bene Tito? Allora facciamo innanzitutto un tondino al centro Così Dopodiché tanti cerchietti Uno accanto all'altro Attorno al primo cerchietto Questi cerchietti devono un po' entrare nel primo cerchietto E devono essere leggermente più piccoli Del cerchietto che abbiamo appena disegnato Ma poco più piccoli E bimbi guardate Un cerchietto fino a dentro E poi accanto ne mettiamo uno che si tenga la mano con questo cerchietto Un altro cerchietto fino a dentro Un altro cerchietto fino a dentro Un altro cerchietto fino a dentro E un altro cerchietto così fino a dentro A questo punto però Come vedete dentro il cerchio principale Tito è tutto sporco Giusto? Giusto Tito? Benissimo Ne avessi fatto uno più piccolo di quello Adesso bimbi con la gomma cancelliamo al centro Se vi viene difficile farlo con la gomma grande Fatelo con la gomma culetto della matita O testa Cos'è questa Tito? Tu che sei... Bene da noi è il culetto Il culetto gommoso Il culetto gommoso della matita Allora Cancellate tutto dentro Voilà! E la vostra margherita è pronta I bimbi grandi invece la faranno in maniera un po' diversa Adesso facciamo la margherita per i più grandetti Sempre un bel cerchio al centro Così E poi invece i petali avranno tutti quanti la forma di una U alla rovescia Così Adesso proviamo Ne facciamo uno E lo attacchiamo proprio qui Tac Ora Continuiamo Ne facciamo un altro Che parta proprio da dove è finito il primo petalo Tac 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 Ed ecco la nostra margherita Bella e pronta Bellissimo Cancelliamo questo Che non ci piace Visto qua Adesso Coloriamo i nostri colori Giusto Tito? Coloriamo i nostri colori Adesso Adesso coloriamo i nostri fiori Giusto Tito? Eh sì certo E allora Come vi ho spiegato la volta scorsa Prima il bordo Giusto Tito? I bordi Per non uscire dai bordi Bisogna fare prime bordi Bravo Bravo Tito Per non uscire dai bordi Bisogna fare prime bordi E poi tutto dentro Così con Tanti trattini Vicini Vicini Come tanti Fratellini Bravo Sono il numero uno No Tito Non sei il numero uno Tu sei il numero due B Benissimo Allora Mi hai dato del grasso No Sei il meno grasso di tutti Nonché la mia matita preferita La due B Allora E adesso prendiamo Un bel colore Che ci piace A me piace il rosso Bimbi A voi quale colore piace? Ok ok Ho capito A te l'arancione A te il giallo A te il verde A te il blu Sei maschio vero? Però le margherite blu Non ci sono Poi faremo un fiore blu Più in là Non ti preoccupare Così lo potrai disegnare di blu Ma poi Tito A colorium Le margherite blu ci sono? Ci sono di tutti i colori E allora puoi farle anche blu Evviva Prima i bordi E dopo? Tante lineette tutte dentro Vicine Molto vicine Io i bordi li do più forti E poi do le lineette un po' meno forti Così che rimanga un po' il contrasto Ok bordi Prima di inserire il super turbo Voglio farvi vedere un'altra cosa Per fare sembrare il fiore più carino e più vero Date due lineette al centro Così guardate Una bella forte qua E una bella forte qua Questo servirà per dare più movimento Al vostro fiorellino E per farlo sembrare più carino Ok bimbi? Quindi bordi interno E super turbo A questo fiorellino però manca lo stelo Tito E mancano anche le foglie Tito Giusto Adesso facciamo lo stelo bimbi Giusto Tito? Giusto Allora dall'incontro dei due petali più vicini Cosa facciamo? Facciamo scendere Una piccola curva Così guardate Le foglie potete metterle dove preferite A me piace metterne Una qui Come si fanno le foglie? Le foglie si fanno in maniera molto semplice Si fa una curva da una parte E una curva dall'altra parte Così Molto semplice Sembra quasi un occhio Quasi un occhio Una curva E una curva Poi le foglie possono avere anche varie forme Giusto possono essere così A seconda del fiore Ma non ci complichiamo la vita Intanto impariamo le foglie facili facili Poi andando avanti con il corso Vi insegnerò via via foglie sempre più difficili da fare Va bene bimbi? Facciamo questa fogliolina Ne facciamo una qui Una curva E una curva E una qui Una curva E una curva Va bene? Bellissimo Cancelliamo Anche qui Prendiamo un bel verde scuro Eccolo qua Un bel verde scuro E facciamo sia lo stelo Dobbiamo passare solo sulla linea Vero Ombretta? Certo Tito Passare solo sulla linea di matita Questo è facile E anche qui Facciamo i bordi Giusto Tito? Si si Ma la foglia Tu la vedi così piatta nei fiori O c'ha delle righine? C'ha delle righine dentro Eh ora le facciamo Va bene Tito? Dai forza Adesso Dobbiamo fare la righina nel mezzo E la faremo direttamente con la matita Che ne dite? Con la matita colorata Da questo punto Da questo punto Dobbiamo arrivare a questo punto Unirli Con una lunga linea Un po' tondeggiante Che segue un po' la curva Della linea di sopra Così Dividendo a metà la foglia Bravissima Facciamo la stessa cosa Però questa volta Già che La foglia è messa un po' più Per così Nella foglia di sotto Invece seguiamo la curva Della linea di sotto Capito? Foglia di sopra Seguiamo la curva Della linea di sopra Foglia di sotto Seguiamo la curva Della linea di sotto Bravissima Uniamo i punti Bimbi Vediamo di farvelo vedere Olè Così Forte Vero? E adesso Io faccio anche Questo Ci riuscite voi A fare questo? Un trattino Un trattino E poi nel mezzo Tre due Un trattino E un trattino E adesso Con un verde chiaro Grazie Tito Ma adesso ci dobbiamo sbrigare Con un verde chiaro Coloriamo tutto l'interno Ovviamente Anche la margherita Dei piccoli Si colora così Io ve ne faccio vedere Solo una Perché sennò diventa Ripetitivo Ma tutte le margherite Si colorano Nello stesso modo Una volta Cancellato il centro In quella dei piccoli Si colora esattamente Nella stessa maniera Oh E' bellissimo Ora vi faccio vedere Una margherita Appoggiata Su un prato Che sia Un pochettino Più tridimensionale Che sembri Un poco più profonda Lo vuoi vedere Tito? Si basta che E' una cosa veloce E' una cosa veloce Ed è fatta tutta Con dei Con delle palline schiacciate Vuoi vedere? Vai Guardate che bella Guardate che bella Questa tecnica Facciamo Una pallina Qui Un po' schiacciata Visto? Una specie di salamino Un salamino Quello? Che cos'è? Un fagiolino Un fagiolo Un fagiolino No E' un ovale Si chiama ovale Dopodichè Ne facciamo sopra Uno un po' più piccolo Ma che si veda A metà Un po' nascosto Visto bimbi? Accanto a questo Adesso Ne facciamo uno Che è ancora nascosto E accanto a questo Ne facciamo un altro Ancora nascosto Poi dal centro Ne facciamo uno Che faccia così E uno Che faccia così E viene fuori Una bella margheritona Poggiata Dai Il colore è veloce Ve la faccio rivedere di nuovo Allora Ovale Ovale più piccolo Fiorellino Petalo 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 E petalo E la nostra margherita Tridimensionale E' bella e pronta Boom Ora bimbi Invece l'altra margherita La coloriamo Con colori a spirito Questa naturalmente Non ha gambo Perché questa va Poggiata sul prato Allora E questi colori a spirito Ci permetteranno Di fare una cosa Bellissima Guardate bimbi Io ripasso sul bordo Così E poi ripasso Su tutti i petali Uno Due Tre Cinque Facciamo asciugare un attimo Il colore a spirito Io sventolo Vedete Sventolo Sventolo Tito soffia No Tito Tu così sputi Non soffiare più Mi bagni tutto il disegno Allora E adesso Guardate Passo la gomma Sulla nostra Bella margherita Ma è una magia Non è una magia La matita va via E rimane Solo E soltanto Il tratto Del colore a spirito E' vero Visto che è bella Oh Tu si che sei il numero uno Oh Anche questo è un modo carino Per fare Per colorare Lasciando l'interno Magari tutto bianco Oppure lasciando l'interno Colorato con i colori A matita In modo da non fare vedere La matita E lasciare solo colore Vi piace bimbi? A te piace Tito Questo modo? E' bellissimo A me piace di più Si anche a me Eh anche a me Però i bimbi Devono imparare a disegnare così Bene bimbi Adesso inserisco Il super turbo coloriano Eccoci qua bimbi Anche quest'altra margherita E' bella e pronta Bravissima E fa pure profumo Vero Bene Abbiamo imparato quindi A fare anche i bordi Con i colori a spirito Non vi preoccupate Molto presto Vi insegnerò a fare anche L'interno con i colori a spirito Per oggi Abbiamo imparato A fare le margherite Molto presto Torneremo con altri fiorellini Allenatevi tantissimo E disegnate un prato Con tante margherite E postatemelo sulla pagina facebook Cercate l'album Il salvataggio di colorium Aspetto tutti i vostri disegni E buoni fiorellini a tutti Missione compiuta Bambini Evviva Adesso colorium Di nuovo piena di fiori E se voi ne disegnerete tantissimi Postateli sulla mia pagina facebook Così io rimetto nell'album Il salvataggio di colorium E allora Qua sotto nel box informazioni Trovate sempre il link Per la mia pagina facebook Fatevi aiutare le grandi Ad arrivarci Noi vi aspettiamo anche su facebook Per chiacchierare un pochino insieme Non è vero contito? Sì Vi vogliamo bene Ciao bambini Ci rivediamo la prossima volta Per la prossima missione Mantenete le matite appuntite Non mancate Ciao 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 Ciao